L'ambiente torna a centro della campagna elettorale in due differenti proposte rivolte ai quattro candidati alla presidenza di Regione. Da un lato quelle avanzate da USB, Unione Sindacale di Base, ISDE, Medici per l'Ambiente e Italia Nostra. Sostanzialmente all'attenzione del prossimo governo regionale si pone il tema della manutenzione organica del territorio. Noi abbiamo questa proposta che riguarda la necessità di sviluppare occupazione stabile all'interno dei territori, soprattutto nelle aree interne ma non solo, a servizio della qualità e della vita delle persone all'interno di questo territorio. Quest'iniziativa anche alla luce del nuovo testo unico forestale non può che passare attraverso una pianificazione all'interno del territorio di tutte le attività e soprattutto che queste attività devono essere gestite in maniera diretta dal settore pubblico, quindi dalla Regione, attraverso la costituzione di una società unica, multifunzionale, che si occupa di tutte queste attività di manutenzione del territorio. Cosa che in altre Regioni già è avvenuta e non si capisce per quale motivo non possa avvenire anche all'interno della Regione Abruzzo. Mettendo insieme quelle che sono già pezzi esistenti, quello che resta nelle comunità montane, quello che resta, ma anche per quanto riguarda per esempio i consorsi di bonifica. C'è poi il WWF che ha stilato un decalogo. Biodiversità, aree protette, Rete Natura 2000, tutela della fauna e attività venatoria, governo del territorio, difesa del suolo e dell'acqua, mobilità sostenibile, valutazioni ambientali, lotta ai cambiamenti del clima, energia, gestione dei rifiuti ed educazione ambientale. L'attenzione principale però, oltre alle aree protette, per il WWF va apposta alla qualità delle acque potabili, con il tema inderogabile della salvaguardia dell'acquifero del Gran Sasso e della sua messa in sicurezza. Vedere adesso che nella delibera della Regione si dà come termine per eliminare determinate sostanze, determinati esperimenti che non sono compatibili con la presenza dell'acquifero, si dà come termine il 31 dicembre del 2020, quando si sa che quelle sostanze neanche ci dovevano essere, ci ha lasciato molto perplessi. Sicuramente si tratta di un passo avanti importante, però siamo ancora in una fase di intenti. Si tratta di capire effettivamente come si vorrà procedere e noi speriamo anche che il nuovo governo regionale voglia collaborare maggiormente con le associazioni. Ricordiamo che l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, che è formato da tutte le associazioni ambientali, le associazioni dei consumatori, non è mai stato in qualche modo coinvolto nella discussione.